Festa grande al Palasport di Genova dove tradizionalmente nacque l'Atletica Endur ed il mitico torneo di calcio a sette omonimo. Anche questa volta per il maestoso padiglione S è una novità assoluta, la prima edizione in Italia del Kart Champions Rise. Si tratta di una gara per go-kart, opportunamente protetti e rivestiti proprio per non causare scontri o agganci. In un percorso tortuoso e spettacolare, dentro il padiglione circolare, addirittura con un passaggio sotto le tribune, in una sorta di equiparazione al celebre tunnel del circuito di Monte Carlo in Formula 1. Alla manifestazione partecipano corridori del mondo motoristico ma afferenti a discipline diverse dal go-kart. Alla manifestazione sarà presente Tele Genova con una diretta televisiva in onda sabato 10 novembre delle 21.15 alle 23.50 che seguirà la corsa più importante fra quelle in programma e con un salotto ricco di ospiti per i momenti di preparazione o di sosta della corsa. Il tagliando unico costa 15 euro. I posti deputati all'organizzazione della gara sono il Kart Champions Rise in piazza della Vittoria 4.12 e gli sportelli ACI di via Brigate Partigiane.